Tre giorni in riva al mare di Gabella sul litorale crotonese, ospiti del club velico. Sono i ragazzi di Surf for Children, la ONLUS data da un gruppo di giovani medici che hanno deciso di unire la propria professione all'amore per lo sport e per i bambini con disabilità. Un'iniziativa fortemente voluta da Alessia Sisca. Intanto io ho l'esperienza in casa, ho un bambino con la sindrome di Down e da genitore credevo che fosse sicuramente un'importante occasione per avere una testimonianza reale di come si possa vivere questa sindrome. Il club velico ha sposato in pieno la mia idea e quindi stiamo toccando con mano che cosa significa avere a che fare con delle persone con la sindrome di Down. Non è niente di drammatico, niente di insormontabile, i ragazzi sono fantastici, sono molto sereni, molto allegri, ci stanno dando veramente una grandissima carica. Noi tramite questo sport che nell'immaginario collettivo non è lo sport che associa un bambino con bisogno speciale, ma magari è lo sport che associa l'australiano alto, biondo, con un fisico possente. Invece noi proprio proponendo queste attività vogliamo convincere le famiglie innanzitutto che questi ragazzi hanno le possibilità che hanno tutti i ragazzi. Bisogna solo dargli mezzi e dargli fiducia, dargli il tempo e loro ce la faranno come riescono, come stiamo vedendo oggi stesso. Club Velico e Surf for Children, due esperienze a confronto, un cammino comune per consentire ai ragazzi Down e ai loro genitori di vivere esperienze positive. Abbiamo sposato in pieno la causa di Surf for Children perché i ragazzi si propongono, i medici parlo, quando parlo di ragazzi è un obiettivo abbastanza ambizioso, che è quello di creare una rete di cooperazione internazionale tra le diverse associazioni al fine di rendere accessibile il diritto dello sport a tutti, anche a chi ha delle esigenze poi specifiche che io non definirei nemmeno particolari perché vedendo questi ragazzi fare attività si può notare come imparano, come farebbe qualsiasi ragazzo, con semplicità, con gioco. Qui al Club Velico i ragazzi di Surf for Children hanno potuto assaporare e provare tutti quelli che sono gli sport acquatici, quindi vela, kite, windsurf e surf, provandoli appunto di prima persona con istruttori federali altamente qualificati e in totale sicurezza, infatti anche i loro accompagnatori sono qui presenti, sono in acqua con loro in maniera tale che la sicurezza è sempre garantita e soprattutto riescono a divertirsi in maniera spensierata e senza problemi. Progetti comuni che guardano al sociale, che uniscono e mirano alla crescita delle giovani generazioni e dei territori in cui vivono.